La riqualificazione del vecchio e degradato mercato coperto di Teramo nella centrale storica Piazza Verdi è stato il sogno infranto di generazioni di teramani. Oggi il Comune di Teramo affronta il problema in un'ottica moderna e decide di trasformare quella bruttura inqualificabile in un mercato culturale urbano. Lo fa attraverso il progetto Space Market che punta a coinvolgere i giovani per arrivare alla creazione all'interno della struttura di Piazza Verdi di un incubatore gestito da manager e creativi under 35. Saranno le loro idee a ridisegnare e valorizzare con forme di arte e cultura questo angolo della città degradato. La fase di avvio del progetto è il contest Immagina e racconta per Teramo, un concorso di idee appunto che scadrà il prossimo 10 maggio. L'iniziativa è cofinanziata dal Lanci e dalla Presidenza del Consiglio di Ministri ed è promossa dal Comune di Teramo e dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con alcune associazioni culturali. Abbiamo pubblicato già nella giornata di ieri, resterà pubblico fino all'11 di maggio, questo avviso per la selezione di 5 manager culturali e questo è il passaggio successivo che porta avanti un percorso di riqualificazione dei due spazi della macelleria, l'ex macelleria e l'ex pescheria del mercato coperto, una valorizzazione, un recupero di quegli spazi in un'ottica culturale. Quegli spazi diventeranno un hub, questi 5 manager che andiamo a selezionare avranno proprio il compito di riprogrammare la riqualificazione di quei due spazi che poi diventeranno centro nevralgico per una programmazione più ampia che si estenderà su tutto il tessuto cittadino e che avrà il compito quindi di andare a definire quelle che saranno le iniziative culturali del prossimo futuro, da rilanciare partendo dagli occhi di una giovane generazione, quella fino ai 35 anni che ha il compito oggi non solo di sognare ma di andare a realizzare quelle che sono le prospettive future in ambito culturale della nostra Teramo. Come farete a coinvolgere questa nuova generazione? Abbiamo già avviato dei percorsi attraverso dei contest, una partecipazione attraverso gli strumenti digitali che oggi sono in grande parte utilizzati da questa generazione per far sì che insieme possano già lanciare delle idee su quelle che possono essere le funzioni da destinare a quei luoghi. Abbiamo già delle ottime risposte, degli ottimi risultati e gli ottimi contributi da diversi giovani del territorio e non solo evidentemente è il primo passo verso un percorso più lungo che vedrà coinvolta l'amministrazione comunale e tutti i partner del progetto Space per i prossimi tre anni.